So già che me ne pentirò Come sapete ho una lunga esperienza di parkour in minecraft Ma in fortnite sono negato Ragazzi non so come sia possibile ma non lo so proprio farlo Quindi oggi faremo una bella death run in fortnite Perché non lo so mi voglio mettere alla prova Oh si è filato il gruppo intanto Ciao ragazzi Giocherò con un po' di supporter come vedete Li ho invitati per provare insieme a me questa modalità Se mi avvia il server dannato fortnite Che ti buggi sempre E vi ricordo che Se anche tu vuoi giocare insieme a me e partecipare ai miei video Vai nel negozio e inserisci il codice supporto a un creatore Ernesto Fiammata Quando fare un acquisto fai uno screen con il mio codice L'acquisto che hai fatto Taggami su instagram specificando il tuo nome in game In questo modo potrò aggiungere i miei supporter agli amici Per farli giocare con me Ok ragazzi nel metterci carica l'isola c'è questo macello Ne approfitto per ringraziare un paio di ragazzi che mi hanno fatto un dono su fortnite Ragazzi grazie mille davvero Molto molto gentili Ehm Se anche io volessi entrare nell'isola Sono incastrato in questo momento Ragazzi non posso muovermi Ragazzi probabilmente sono pazzo Ho appena portato 16 persone in una death run Cosa potrà mai succedere Come facciamo a giocare Avvia partita ok aspetta Ah ok ok devo andare di lì Andiamo Tutti addosso andate a giocare Aiuto ragazzi Se si capisce niente iniziamo proprio male Ok C'è un po' di lag Giusto un pelino Ok lasciamo che i nostri amici inizino pure a fare questa death run Magari che io già sono Eh Oddio No ne ho fatti tre Cioè ragazzi non riesco a fare neanche il primo livello Poi sto laggando tutto il server Signori di fortnite Avete fatto in modo che si potesse giocare in 16 Perché non posso farlo tranquillamente Io supererò Almeno il primo livello Questa è una promessa Mi tranquillizzo un attimo Ne approfitto per dirvi Che sta per arrivare il mega evento del mostro e del robottone Credo che sia il 21 E ci farò un video Quindi state certi che non mancherò Ora che mi sono rilassato e vi ho detto questa cosa Muoio subito Perfetto Perché sono tornato indietro? Cioè ho fatto così cacare Che il gioco mi ha detto Torna indietro da dove sei venuto maledetto Questa volta farò sul serio ragazzi Adesso si traiarda Cioè intendevo Questa volta Nel senso questa volta No 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 alla fine raga no Non ce la farò mai Raga ma saremo rimasti in tre qua eh Cioè siamo rimasti in pochissime Non farcela E' imbarazzante per me questa cosa No la porta fina La porta fina Ok ragazzi E' che tante volte non mi prende lo scatto All'inizio No Non ho preso il cornicione No Ho preso il cornicione Non ci credo ragazzi Dai ce la sto Ce la faccio Ce la posso fare Io credo in me Voi credete in me? No probabilmente Io credo in me Dab profondo Ce la possiamo fare Raga ce la facciamo Tutti insieme Vai Vai tutti insieme che ce la facciamo Ragazzi Dai che ce la facciamo Dai che la volta buona Raga questo No 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 raga No ma come si entra in quel buco No 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 E si ci rimane solo di fare L'emoticon qua Perché siamo degli inca Stavo per costruire cose Ok Io pensavo di fare una mappa La sfida In questo caso E' fare il primo livello Per me Io ragazzi Non sono buono a fare Il parcours Questo fort Come si entra in quella porta Ragazzi Mamma mia Ti stai dicendo che sono troppo grosso Per entrarci Probabile Vabbè dai Abbiamo 4 ore di tempo Tutto sommato Oh no no Come faccio Non ci passo Non ci passo Saranno le ali Sarà il piccone Non ci passo Ormai ci arrivo anche easy Non ci Ormai c'è Ogni volta che spono C'è il nostro amico qui Che si è arreso Che fa la tipose Ma io continuerò a tornare A vedere questa tipose Perché Ti ripeto Io non ci passo Qui Non ci posso Passa Non ci passo Dove sei Fammi la tipose Fammi la tipose Grazie Sì 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 Mi dispiace solo Che non vedrò mai più La tipose Ma in tutto ciò Oh no Salve Lei è bloccata Al secondo livello Ehi Come si fa Cosa devo fare qui Cos'è sta roba Lo so che mi avete aspettato A lungo Mi è arrivato il momento Di andare avanti Amici miei Quindi Diamoci dentro Vai 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 Oddio Questo potrebbe essere Più easy In che modo sono morto Prima Cioè come Come funziona Non ho idea Salta Vai Sali No c'era una prete Davanti alla mia faccia Una volta Ragazzi dovete sapere Che non ero così forte Nei parkour e nelle cose E scleravo un botto Quando li facevo Mi sembra di essere Tornato a quei tempi Perché in effetti Sono tornato a quei tempi Ma in un gioco diverso Oddio mio Oddio mio Quanto dura Sto cosa Corri Corri Dannazione Quanto dura Raga Adesso Nonostante il lag Abbiamo un amico Qui con noi L'ho pure superato Forse lui è morto Porterò avanti io Il tuo volere Ce la farò per entrambi Fidati di me Amico mio Questa è la volta buona Questa è la volta buona Guarda quanto sono in hype Guarda che hype Non so dove dare Yes L'ho fatto per te Non so neanche chi tu fossi Non ho letto il nome Ma l'ho fatto per te Ci puoi giurare Prendi il checkpoint Prendi il mannaggia Di chi so io Il checkpoint Diamine Abbiamo superato il primo livello Contro ogni prognostico Gno 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 Contro Quello Abbiamo superato il secondo Faremo anche il terzo Ragazzi vai Salta Corri Salta C'è il nemesis Corri Scappa Salta C'è il nemesis Ma questo è easy In realtà Le scale mi hanno un attimo Turbato Perché ero tipo lentissimo Ma sai che mi sembra easy Questo Wow 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 No la porta Finore Io ho dei problemi Con le fottute porte Non riesco a entrare Nelle porte Raga La mattina mi alzo Devo entrare in bagno E tiro le cragnate Sul capo stipite Perché non riesco a entrare Nella porta Oh raga Io comunque Essendo appena arrivato qui Avendolo quasi completato Al primo tentativo Mi sento Alla grande Cioè il primo livello Mi ha tipo tolto La voglia di vivere Ma qua Ah ecco perché Ecco perché Stavo per entrare In una finestra La porta Manco a morire Ragazzi però Levatevi che io cado Se no Dub profondo Si va però Dub profondo Vai 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 Andiamo Andiamo zio Andiamo Andiamo La possiamo fare Questa Prima te l'ho dedicata Questa volta La dedico A tutti gli altri Ragazzi Ma ce la farò Ce la farò Questa è la volta buona Allora so che c'è una porta Subito a sinistra Poi se non ho visto male C'era una porta Subito a destra Quindi Come ci passi Lì dentro Mi perculano Anche Lo so È tutto bello Però ora andiamo Andiamo È arrivato il momento Di correre Oh no Questo mi attiva Le trappole davanti Che ansia Che lui la sta sfruttando Ma dove è saltato Dove è andato Ho visto Un nostro amico Che tipo È morto tantissimo Non si capisce niente No Ero Raga Ero arrivato Ero Arriva Forse Ma cosa ti beghi tu Dai corri Che qua Che qua dobbiamo andarcene Da questo Livello Orribilante All'inizio ho detto Che mi piaceva Poi ho visto Le porticine Del cavolo E mi sto rimangiando Tutto ragazzi Ma questa Io me la sento È la volta buona Se non ce la facciamo Perché è difficile Che ce la facciamo Ma arriviamo almeno Allo step successivo Guarda Guarda Ero lì Ero lì Ma no Che fastidio Sinistra Destra Centro Sinistra Ragazzi Sapport Ernesto Fiammata Mamma mia E mo che cosa c'è Ho visto gli ghiaccio Già Vabbè dai ragazzi Io l'ho detto Che non sono buono L'ho detto comunque Quindi ho la scusa Cosa devo fare Devo rimbalzare Non lo so ragazzi Sapete che non capisco Ma questo livello Sembra easy Eh Ci sono le trappole Vero Ehi Ciao amico Ehi Ehi Ma sei pezzo Ma sei un infame Ma passa Ma cosa stai facendo Ecco Ecco Ho capito Perché Ho capito Ci voglio provare Se non ho capito male In questo livello Dobbiamo muoverci In modo da mantenere l'effetto Non riesco a parlare Con lui che mi distrae Su via Grazie Grazie mille Guarda Ti dedico una Dub profonda Ecco Dub profonda Adesso andiamo però Muoviti la porta Eh raga Ciao Ciao Buonanotte Ok allora Questa sponda qua Non serve a niente Mi sembra di capire Cioè Oddio Serve nel momento in cui Ok 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 No No raga Io ho un problema con le porte Io ve l'ho detto Porte Le porte Ma come fa lui A entrare così svelto Raga Io ci voglio ancora credere Comunque Ci voglio ancora credere Voglio Mantenere la speranza Dai 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 No non ho saltato Ma raga Ma perché non mi prende il ghiaccio Che fastidio Quando non mi prende il ghiaccio Ora non sbaglio Wow 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 Raga ve l'ho detto Raga ve l'ho detto Cosa devo fare qui Cosa Non lo so Cosa dovevo fare Cosa Cosa Io pensavo fosse finito il livello lì Io vi dico la verità ragazzi Io ho la patente Ho guidato un sacco di mezzi diversi Nella mia vita Ma robe che Cioè Dall'auto al trattore Ma guidare questa cosa È L'esperienza più difficile Che abbia mai provato No ce l'ho quasi Devo stare Gitto L'ultima porta no Vai Vai Ok è fatta È fatta Sì 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 No No Cosa devo fare lì No raga io neanche ci spero di arrivarci Figurati sapere cosa devo fare Nonostante ciò No 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 C'è uno che sta eliminando gli altri No raga Che cosa sta succedendo più avanti Io temo che qualsiasi cosa stiano facendo là in avanti Noi non lo sapremo mai Perché siamo bloccati qui E invece Aspetta questa è la volta buona raga È la volta buona Non ho manco saltato Non salta Raga Porca Non salta Non salta Grazie a tutti.